Arte e cucina in arena. Questo è il titolo della due giorni in programma per l'11 e il 12 settembre presso l'imponente anfiteatro romano di Alife. La pasta ancora una volta sarà la protagonista, in tavola con le ricette dello chef Danilo De Cristofano, che ha avuto l'idea dell'iniziativa insieme al pastificio Martino di Alife con la finalità di promuovere il territorio. Infatti faranno da cornice anche vari espositori di prodotti tipici locali, compresa la tipica e ormai nota cipolla di Alife. La pasta, il prodotto che noi vediamo qui è quello che chiaramente verrà poi utilizzato nel corso della manifestazione. Quali sono un po' le caratteristiche? Sì, sì, è lo stesso prodotto che verrà utilizzato per l'evento e faremo tre tipologie di pasta, una lunga, una corta e un raviolo farcito con la cipolla di fara. Che cosa tiene di particolare la sua pasta? È una pasta abbastanza digeribile, una semola con un granulo molto spesso, questo ovviamente fa sì che mantiene una cottura e che è abbastanza digeribile. Sarà un evento e per la promozione della pasta e per la promozione dello chef, quindi il ristorante di Danilo e anche e soprattutto per il territorio di Alife. Arte e cucina in arena, ancora una volta alla pasta al centro tavola in questo caso. Quando inizierà l'evento ci dica gli orari, come entrare, tutto quello che avviene. Tutto l'evento si svolgerà all'interno dell'Anfiteatro Romano di Alife. Tra sabato e domenica, sabato 11 e domenica 12, gli orari della serata partiranno verso le 20 la sera, anche se poi durante il pomeriggio ci saranno dei laboratori, sia per bambini oppure delle escursioni all'interno stesso del paese di Alife. La serata inizierà le vendi e per entrare c'è bisogno di un ticket che è possibile acquistare sia dal pastificio Martino che al ristorante Catagri o direttamente la sera se c'è ancora disponibilità di posti al costo di 20 euro. Nel ticket è compreso la degustazione di tutto il menù che comprende circa 11 antipasti e aperitivi, l'assaggio di tre tipologie di pasta, un raviolo ripieno, una pasta lunga e una pasta corta e poi la degustazione di tutti gli stand gastronomici che abbiamo, stand di vino, birra, prodotti di bici del territorio, formaggi, quindi una bella serata e poi a questo qua sarà realizzata sia la sera dell'11 che la sera del 12 da musica live, quindi avremo due gruppi, uno l'11 e uno il 12. Ovviamente la pasta del pastificio Martino. Assolutamente sì, che andremo a condire con degli ingredienti insieme al territorio, quindi molto molto legati al territorio. Il raviolo ripieno che è di base con la cipolla di alife sarà servito con acciughe e tarallo sbiciolato, quindi un abbinamento anche molto particolare e nel ripieno c'è anche una base di formaggio, quindi avremo dei sapori molto molto forti che uniti tra di loro danno un prodotto molto molto equilibrato. Mentre lo scialatiello o all'alga spirulina sarà servito con l'anerano, un 2.0 l'abbiamo chiamata perché è un po' sera amalfitana, mentre lo spigolo sarà servito con una crema di melanzane, pomodorini e pecorino. Da Alife è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it